buongiorno ragazze allora oggi video in balcone perché fa veramente tanto caldo allora come avete letto del titolo siamo nello speciale 9.000 iscritti quando arriverò a 10.000 non farò ovviamente più speciali di mille e mille perché è stato un casino faccio ogni volta mille iscritti e farò speciali tipo saremo a 10.000 poi farò quello 15.000 poi 20.000 e poi arriveremo al milione ovviamente spero spero un giorno e non spero sono convinto che un giorno arriverò a 100.000 sicuramente ragazzi siamo quasi a 10.000 ed è un piccolo traguardo che nel mondo di youtube io non sono assolutamente nessuno però però ci siamo arrivati e comunque per chi non fosse iscritto iscrivetevi mi aiutate ad arrivare a 10.000 cosa vi costa pigiare quel tasto lì niente quindi fatelo per me ragazzi comunque perché il mi sembra 94 per cento delle persone che guardano i miei video non sono iscritti comunque vi lascio lo screen qua comunque tante persone non che guardano i miei video non sono iscritti quindi iscrivetevi allora come avete letto dal titolo questo è un video che faccio per lo speciale 9.000 iscritti l'avrei comprato ugualmente anche se non fossimo arrivati a 9.000 iscritti perché è una cosa che mi serviva però a sto punto lo facciamo per lo speciale 9.000 iscritti allora è un marsupio fox e ora vi vado a spiegare un secondo le varie impostazioni di questo marsupio diciamo così allora molto bello costa la bellezza di 55 euro non so se lo vedete il negozio più o meno in 50 55 su internet l'ho visto a 45 comunque il prezzo è sempre lì non cambia più di tanto siamo sempre sui 50 euro lo andiamo a togliere dall'involucro e abbiamo il marsupio fox molto carino ora vi spiego un secondo perché questo marsupio e non un altro allora fox ho visto quanto meno il negozio che avevano due marsupi ovvero questo qua che è quello che costa di più ed è aspettate che faccio un po' così questo qua che è quello che costa un po' di più perché è più grande e ha più tasche quindi è molto molto più spazioso ok e vi faccio vedere allora abbiamo prima cosa il loghetto fox qua molto bello è un marsupio che non va messo a tracolla cioè voglio specificarlo va messo dietro qua dietro la schiena e poi lo tieni così ovviamente tracolla ti si muove tutto perché ho scelto un marsupio che anche i miei amici ce l'hanno perché girare con lo zaino io ho il norface e devo dire che secondo me è il miglior zaino rapporto qualità prezzo che esista è uno zaino tecnico ma è anche uno zaino che puoi usare tutti i giorni anche per andare a scuola per dire ed è anche comunque un zaino che ci sta anche per sciare per tutto quanto per andare al mare per sciare per fare quello che vuoi e non costa neanche tantissimo siamo sui 100 euro mi sembra ecco è uno zaino accessibile a tutti non è uno zaino esclusivamente tecnico che ovviamente gli zaini tecnici costeranno anche due trecento euro però quelli sono altri tipi di zaini è uno zaino tecnico però è uno zaino anche per tutti i giorni e non è scomodo per niente l'unica cosa è il problema degli zaini quando vai in bicicletta ti cade tutto in fondo quindi tutto lo zaino rimane vuoto c'è tutto sotto e quindi da fastidissimo ragazzi e ti sbatte tutto quanto mentre col marsupio ciò non dovrebbe succedere comunque non mi voglio dilungare troppo abbiamo il loghetto fox qua e la scritta fox qua entrambi fluorescenti non so se si dice così comunque per le macchine per al buio così infatti c'è anche questo qua che è il coso che ci puoi mettere la luce comodissimo poi abbiamo la prima tasca qua sopra quella più ampia dove possiamo mettere sotto pompette pompetta per gli ammortizzatori quindi dentro sempre sta tasca abbiamo non so se si vede perché sono contro luce comunque abbiamo un altro strap qua con una cordicella fatta così serve per tenere le chiavi o il portafoglio o quello che volete voi e basta qua poi qua molto molto più figo secondo me abbiamo questa tasca un po' più piccina però abbiamo questa qua che ci va la camera d'aria qua dentro in quest'altra taschina poi abbiamo tutti sti vari scomparti come vedete abbiamo questi qua elasticizzati questi qua dentro questo dentro quindi tre tipologie di spazi dove possiamo metterci multitool gopro camera d'aria e basta è quello che volete ecco infine abbiamo due cosi laterali entrambi uguali per una borraccia e per che cavolo ne so il mi viene in mente cosa che io farò il tubetto quello tubeless tipo che se buchi metti il tubeless e quella bomboletta spray tubeless ecco non c'è molti modi da spiegarmi quella lì basta questo è il coso che ho preso sembrava figo perché non so cosa fare per i 9000 iscritti scusate mentre per i 10.000 avevo in mente una bella cosa volevo unboxare la canyon torque ma non penso che ce la farò perché mi arriva fino agosto e quindi la canyon ci metterà molto più tempo ad arrivare io sarò già oltre i 10.000 quasi sicuramente lo spero e quindi volevo organizzare un raduno ragazzi un raduno ma lo voglio pubblicizzare molto molto bene quindi arriviamo a 10.000 iscritti scelgo la data scelgo il giorno scelgo l'ora qui vederci comunque un raduno perché me lo state chiedendo veramente molte persone anche su instagram me l'hanno scritto e me l'hanno chiesto quindi un raduno faremo tutta la giornata street quello che volete ragazzi può venire chiunque basta avere una bicicletta e da muoversi insieme tutto quanto quindi ci tengo moltissimo e facciamo un raduno a genova lo specifico per chi fosse da che cavolo ne so in toscana e volesse venire così chi vuole in piamonte comunque siamo a genova ci sarà un raduno e vediamo ragazzi ok fatemelo organizzare bene però lo organizzerò grazie mille scusate se mi sono dilungato questo marsupio iscrivetevi per favore e abbonatevi da 99 centesimi fino addirittura 100 euro come volete voi ciao ragazzi grazie di tutto grazie a tutti grazie a tutti